Io non so quanti conoscono Totò della mia squadra perché sono molto giovane, ma io ho avuto l'onore e il piacere di condividere intanto calcisticamente un percorso fantastico qua a Messina, ma prima di Messina io e Totò 13 anni ciascuno avevamo e siamo stati nella rappresentativa giovanile insieme, sia giovanissimi che allievi, quindi parliamo di qualche 44, 45, 46 anni fa addietro, quindi è un'amicizia atavica tra me e Totò, anche se non c'era una grandissima frequentazione, però c'erano le telefonate, c'è una stima infinita, io ho un ricordo fantastico di Totò, amico, compagno e calciatore, ha fatto sognare tutti gli italiani, è stato capocannoniere nell'Italia, e questo calcisticamente si presenta da solo, ma quello che sanno poco la gente è il lato di Totò umano, da ragazzo, da uomo, da padre, è comunque una perdita importante, molto devastante perché purtroppo a quasi 60 anni ci lascia un amico, un fratello più piccolo, è un compagno professionalmente calcisticamente importante, io sono vicino alla famiglia, faccio i miei più sinceri e affettuosi condoglianze, il mio pensiero va ai figli, che erano piccolissimi quando eravamo qua a Messina, e quindi purtroppo bisognerebbe che riflettessimo quanto piccoli siamo in questo mondo, quando come da un niente si passa dalla vita alla morte, quindi penso che Totò è stato un grande amico e gli amici non si perdono mai, anche nella morte. Io quando mi convocate sono qua, dico ciò che penso in maniera onesta, concreta, non mi tiro indietro su prendermi le responsabilità, a me alzare l'asticella significa avere anche una possibilità di poter fare un doppio durante la settimana, quando ho dichiarato, per favore Assessore aiutami a potermi allenare su un campo. Ma è un altro campionato, quello che è stato l'anno scorso, ormai archiviato, era una stagione diversa, quindi con interpreti diversi, con una squadra diversa, e adesso alla quinta giornata ci ritroviamo ad avere la Casertana, una squadra che ha rinnovato anch'essa in tanti elementi, e secondo me dobbiamo essere bravi a interpretarla bene, perché è una squadra che presenta parecchie insidie, ma come tutte d'altronde, quindi non è che c'è una squadra materassa, allora tu puoi pensare che il calcio oggi ti possa regalare tre punti senza sofferenza, non esiste proprio, noi abbiamo il dovere di ricominciare a pedalare, di fare molto bene, e di fare una prestazione gagliarda, maiuscola, perché anche a Crotone, immeritatamente, secondo me abbiamo perso, però abbiamo perso, e dobbiamo cercare di fare punti perché ci interessa a noi andare avanti per quello che è il nostro percorso, la nostra classifica, il nostro progetto, e la validità di questi ragazzi non è in discussione, dobbiamo solo cambiare atteggiamento e non pensare che tra dentro e fuori ci siano quelle situazioni speculative da attendista come squadra, dobbiamo avere una nostra filosofia, una nostra identità e portarla avanti sia dentro che fuori.